Tutte le più belle storie arrivano al termine ed è lo stesso per noi rispetto a questa serie di video che ho fatto su l'anoressia e bulimia trattate con la terapia breve centrata sulla soluzione. Video divulgativi rivolti agli psicologi e psicoterapeuti per dare un po' di informazioni basati su libro Brief Therapy and Eating Disorders e ovviamente su altre conoscenze relative alle terapie brevi e alla terapia centrata sulla soluzione. Spero che vi sia piaciuto e oggi andiamo a concludere. Non è detto che non farò altri video relativi a questo argomento, anzi soprattutto se me li chiederete magari ci sarà qualcosa di interessante che mi piacerà approfondire, però con il video di oggi sicuramente mettiamo un primo punto a questo ciclo. Grazie per essere stati con me fin qui e godiamoci l'ultimo video che è sulla seconda seduta e le successive. Quali seppur piccoli segni di miglioramento hai notato nelle ultime settimane? Questa è la domanda che noi in particolare nell'Italian Center for Single Session Therapy utilizziamo in qualunque tipo di terapia breve centrata sulla soluzione e non fa eccezione quella con i disturbi alimentari. Quindi la seconda seduta si apre proprio così, si apre cioè con domande come questa o comunque che vanno a cercare di fare licitare in prima istanza alla persona che cosa funziona, che cosa ha funzionato, che cosa va meglio. Un'altra domanda può essere proprio questa, che cosa è che è andato meglio dall'ultima volta che ci siamo visti rispetto all'ultima volta in cui ci siamo visti, che cosa è che ha funzionato, che cosa è che è migliorato, che cosa è che è cambiato in positivo, quali piccole cose positive hai notato da allora. Non è che le devi fare tutte a mitraglietta, una dopo l'altra, così scegliene una, fagliela, magari se ti dice, non lo so, nulla, prova a fargliene un'altra un po' diversa. Ovviamente possono esserci diversi scenari in base alle diverse risposte che la persona ti dà. Numero uno, la persona ti riporta dei miglioramenti. Dovrai fare due cose, amplificali e digli di farlo di più. Devi amplificare, cioè chiedere più dettagli rispetto a quello che ti riporta come miglioramento, che cosa hai fatto nello specifico, come hai fatto a farlo, che cosa ti fa pensare questo, che cosa ti dice su di te. Tutte domande che attingono alla risorsa infinita di domande, solution focus, e che puoi anche andare a trovare nel nostro libro Terapia Breve centrata sulla soluzione. Lo scopo, ormai l'avrai capito, è quello di andare a far vedere alla persona che la soluzione è nelle sue mani, in quello che fa. Quindi dovrai amplificare, sempre sottolineando il duro lavoro, l'impegno e anche il fatto che di piccoli risultati sono molto importanti. Soprattutto è importante per questo tipo di pazienti che spesso sono tutto o niente e che tendono a squalificare i piccoli risultati. Potresti anche utilizzare a questo punto una scala della fiducia, da una scala di 10 gradini, da 0 a 10, dove 10 è tu che hai molta fiducia, che questo cambiamento continui a perpetuarsi, 0 è scarsa, ho nessuna fiducia, dove ti poni ora? Questo ti sarà molto utile perché se dovesse avere una fiducia molto bassa puoi chiederle che cosa le serve per avere un po' più di fiducia. Potresti scoprire che ti dice bisogno di cambiamenti più evidenti, più forti, di continuare a farli, a metterli in atto e lì puoi di nuovo andare a sottolineare il fatto che effettivamente serve del duro lavoro e che piccoli cambiamenti non sono per niente scontati per il suo problema, anzi sono molto importanti che molte persone con il suo stesso problema non riescono a raggiungerli. In generale usa questa seduta per consolidare la sua fiducia nella capacità di mantenere le cose che ha messo in atto e per ovviamente sottolineare il fatto che quello che ha messo in atto è davvero importante. Attenzione ragazzi, io non voglio darvi l'idea che dovete fare questa cosa fingendo, ma dovete essere convinti voi stessi in prima persona che è così. Quando parliamo di disturbi alimentari parliamo di problemi che sono difficili da cambiare, quindi dei piccoli risultati, sono dei grandi traguardi per questa persona e noi dobbiamo sottolinearli per far capire a lei il valore di quanto è riuscita a fare. La seconda situazione è quella in cui la paziente torna e non vede miglioramenti. In genere questo è dato proprio dalla tendenza di questo tipo di clienti a focalizzarsi su quello che non va, su quello che non funziona, oppure a minimizzare dei risultati considerati troppo piccoli. Quello che allora dovrai fare tu è ancora una volta focalizzare la tua e la sua attenzione sulle eccezioni. Ma c'è stato qualcosa di diverso? Che cosa è cambiato? Anche di minimo. Le cose sono state uguali a prima, nella scala eri a 4 l'altra volta, sei ancora a 4 o sei un po' più su, a 5 o a 4,1. E se sì, perché? Cosa hai fatto di diverso? Cosa ti fa pensare questo? Brava, complimenti, è un grande impegno quello che hai dovuto mettere a fare questo. Me ne rendo conto, non è facile. Molte persone che vedo con questo problema non ci riescono. Questi piccoli risultati sono importanti, dobbiamo continuare a insistere. So che hai molta fretta, ma dobbiamo andare piano per poter arrivare prima. E un'altra cosa che puoi chiedere è cosa sei riuscito a fare per non peggiorare? Sei rimasta a 4? Come hai fatto a non scendere più in basso? Come hai fatto comunque a mantenere lo stato dell'altra volta? E se dovesse essere peggiorata, chiedere come hai fatto a non arretrare ulteriormente? O in questo caso in cui non ci sono dei progressi, ci sono alcune cose che devi tenere a mente, che devi fare in seduta. Numero uno separa la... comunque io non sto ignorando deliberatamente, ragazzi, il fatto che ci sono le cicale in sottofondo, gli uccellini, le zappe, eccetera. Ragazzi, è così. La vita di campagna è questa qui. Dicevo numero uno separa la persona dal problema. Questo significa che non hai di fronte un'anoressica, dio mio, ma hai di fronte una persona con un problema. Quindi tu devi andare a sottolineare i punti di forza e le risorse di quella persona, anziché sottolineare tutto quello che non va, tutto quello che non funziona, tutto quello che non le è d'aiuto. C'è già lei che fa questo, non ti preoccupare. Tu invece sottolinei i suoi punti di forza e le sue risorse. Numero due, non prendere una posizione rispetto alla paziente o al problema e in generale alla mancanza di progressi. Evita di dire tu sei così e cosa avresti dovuto fare così e cosa, oppure dire questo è un tipo di problema che effettivamente ti farà soffrire tanto, si deve impegnarti molto di più, perché va bene parlare di impegno e duro lavoro, ma sempre con l'ottica di sottolineare i progressi e l'impegno anche soltanto motivazionale che la persona sta mettendo in atto. In altre parole, peraltro in accordo con gli studi sulla relazione terapeutica che funziona, devi aumentare la fiducia e la speranza della persona, non fare il lavoro opposto. Valuta se l'obiettivo è cambiato, perché a volte la mancanza di progressi potrebbe anche essere legata al fatto che c'è stato un cambiamento, anche magari leggero rispetto all'obiettivo. Magari per qualche ragione, all'inizio eravate molto sul, nella prima seduta molto sul disturbo alimentare, ma per qualche ragione ora è cambiato qualcosa. E se sì, tu devi rendertene conto, perché tu hai una cliente rispetto a quell'obiettivo e non più rispetto a quello precedente. Valuta, numero quattro, più attentamente lo stadio del cambiamento, perché similmente a quello che ho detto poco fa, magari la persona hai valutato che si trovava in uno stato di contemplazione, invece magari in uno stato di pre-contemplazione, oppure in uno stato di azione è invece in uno stato di contemplazione. Magari pensavi che fosse una cliente e invece è una lamentatrice. Valutalo più attentamente, perché come avrei visto nel video precedente, sui compiti, a seconda del tipo di stadio o di relazione in cui si trova la persona, cambia anche il tipo di richieste che devi fare, di compiti che devi dare. Ma cambia anche, come ho detto nei video precedenti, proprio quelli iniziali di questa serie, cambia anche il tipo di domande che farai e come andrai a condurre il colloquio. Quindi magari non ci sono miglioramenti per questo motivo. In questo caso ricordati sempre di focalizzarti su delle mutue negoziazioni, delle lamentele che porta alla cliente. Cioè devi capire qual è il suo obiettivo, dove vuole andare a lavorare lei e focalizzarti con lei su quello. Come finisce questa prima, questa seconda seduta? Bene, è esattamente come la prima seduta, cioè c'è il messaggio di feedback, lo ricorderai dal video precedente, in cui fai complimenti per quanto ha fatto fino a quel momento, per l'impegno che ha profuso fino a quel momento. Di nuovo, se necessario, prendi un accordo sull'obiettivo. In questo caso non deve essere. Allora, di nuovo, noi abbiamo deciso che lavoriamo su questo, per essere semplicemente, ok, continuiamo dunque su questa strada, se siamo d'accordo. Infine dai eventualmente il compito, a seconda anche della fase in cui, del cambiamento in cui si trova. Tutto questo non ci ritorno, perché nel video precedente già ne avevo parlato. E le altre sedute? Beh, in realtà questa è la cosa meravigliosa della Solution Focus. Le altre sedute sono identiche alla seconda, che è molto simile, peraltro, alla prima. Deschazer cercava proprio di produrre un processo logico che fosse sempre lo stesso. Lui diceva, it's the same. In realtà quello che noi possiamo dire oggi nella Solution Focus, che it's not exactly the same, cioè non è esattamente sempre la stessa cosa, perché poi ci sono delle variabili, delle varianti, che dobbiamo tenere in considerazione rispetto soprattutto a degli aspetti che possiamo aspettarci nelle persone con determinati problemi. Esistono delle ridondanze di cui possiamo tener conto solo nel momento in cui, ridondanze del problema, solo nel momento in cui teniamo in considerazione le unicità della persona. Tuttavia, seppure il processo poi rimarrà lo stesso nella terza, nella quarta, nella quinta seduta e in quelle successive, ci sono alcune cose che devi tenere in mente. Numero uno, che devi tenere in considerazione il fatto di continuare a far fare dei piccoli cambiamenti alla persona per migliorare i suoi problemi alimentari. Abbiamo detto che con una persona stiamo ovviamente su quello che lei ci porta, però è ovvio che non stiamo trascurando il problema alimentare, quindi se dopo un po' che stiamo andando avanti, stiamo parlando di tutt'altro, e il problema alimentare non viene mai fuori, dovremmo cercare magari di chiedere, indagare, ci sono miglioramenti anche rispetto a quello. Però attenzione, come ho detto in uno dei primissimi video, sempre ricordando che se la persona non è una cliente per quel tipo di problema, magari è una lamentatrice o una visitatrice, è sempre opportuno lasciare la porta aperta in modo tale che possa tornare da noi quando sentirà di poter affrontare quel tipo di problema. Però se invece è già in lavoro con noi, con l'idea che quello è un problema, lamentatrice, o quello è un problema che può affrontare, su cui può fare qualcosa cliente, bene, allora dobbiamo renderci conto, seduta dopo seduta, che ci siano, assicurarci che ci siano dei miglioramenti piccoli ma costanti sul problema stesso. Su questo ti può tornare utile, oltre a chiedere feedback, ovviamente durante la seduta, anche utilizzare degli strumenti come il feedback informant treatment, su cui ho fatto un video che ti invido a vedere, che ti invidio a vedere, interessante, i psicoanalisti mi diranno perché di questo lapsus, che ti invito a vedere per saperne di più sul sito. Numero due, tieni sempre a mente di far sviluppare delle aspettative realistiche rispetto ai suoi comportamenti, sia quelli positivi sia quelli negativi. Rispetto a quelli positivi l'aspettativa realistica, l'abbiamo detto tante volte, è il fatto di considerare il suo modo di percepire tutto o niente per aiutarla a farlo diventare un modo di percepire più graduale. Molto banalmente non puoi, da un lato non puoi perdere 80 kg in due mesi, dall'altro ti devi aspettare che nella perdita di peso ci saranno dei gradini di, come si dice, di arretramento, esiste come parola, non lo so, in cui sono stanco, le cicale per un fastidioso cicalio nella mia testa, ci saranno dei gradini in cui lei tornerà indietro, scenderà, ma ce li possiamo aspettare, perché è duro lavoro, impegno, eccetera. Dall'altro lato, aspettative realistiche anche sui comportamenti negativi. Che significa? Significa che se continuo a mettere in atto dei comportamenti, per esempio il vomito o la forte restrizione alimentare, pur riconoscendo il fatto che ci deve lavorare, pur standoci lavorando, però potrebbe continuare a metterli proprio perché i piccoli cambiamenti potrebbero essere in certe situazioni molto piccoli, bene, è importante che abbia un'idea di quali saranno le possibili conseguenze, le realistiche conseguenze negative. Attenzione, questo ne ho parlato forse nel primissimo video, quando parliamo della cliente in una fase di pre-contemplazione. Non devi essere punitivo, non devi colpevolizzarla, devi darle delle basic information, cioè delle informazioni base su quello che può succedere. Devi dare in prima seduta, nelle sedute successive, se ti riporta ancora dei problemi, se nella quarta seduta ci sono dei piccoli miglioramenti costanti, ma ancora vomita molto bene, è bene che tu le dica, ok, mi raccomando, ricorda che questo purtroppo è un comportamento che potrebbe darti dei problemi di tipo fisico, di questo, questo, questo e quest'altro genere. E terza cosa, in realtà te l'ho già detta, farla portare ad apprendere una tolleranza degli scivoloni, delle ricadute, quindi portarla a diventare tollerante con se stesse e con questo tipo di cambiamento che inevitabilmente è un cambiamento che può prevedere degli up and day down. Ma se tu darai del basic information da un lato e utilizzerai le scale che aiutano a normalizzare certi comportamenti, se al quarto gradino non sei ancora arrivata al decimo, però due settimane fa è che al terzo gradino, quindi hai fatto un miglioramento, e che dall'altro aiutano le scale anche a sottolineare i piccoli cambiamenti positivi, hai fatto questo, hai fatto questa altra eccezione, complimenti, come hai fatto, eccetera, sarai già contemplando queste tre cose e facendo il lavoro di base che devi fare con questo tipo di pazienti. Questa è una terapia breve, quindi se non vedi dei cambiamenti entro la terza seduta di nessun tipo, quindi neanche piccoli, bene, torna sull'obiettivo, torna su il vedere se c'è un obiettivo diverso, mutuo che dovete concordare. Attenzione, non perché essendo una terapia breve deve essere risolto tutto in brevissimo tempo, ma perché essendo una terapia breve è studiata, costruita per vedere dei cambiamenti, anche piccoli, già nelle prime sedute. Quindi se nella terza seduta, nella quarta seduta al massimo, non vedi questi piccoli miglioramenti, assicurati che la relazione sia quella giusta, che la fase del cambiamento è giusta, che l'obiettivo è giusto e nel caso vai a rimodularli, a ristrutturarli e ad agire di conseguenza. Ragazzi, è stato veramente un piacere io ristudiarmi questo libro, come dicevo nel primissimo video, vecchio ma con tante informazioni utili che ho applicato negli ultimi mesi e veramente ho trovato dei grandi risultati, ovviamente unite alla mia esperienza e alle conoscenze ulteriori, di terapia breve, di terapia centrale sulla soluzione, è stato un viaggio che mi è piaciuto tanto condividere insieme. Nel libro ci sono tante altre cose, magari ve ne parlerò in futuro, in altri video se vorrete. Ci saranno altri video, ne ho nel frattempo, mentre registravo questi, ne facevo altri, ne ho fatto uno sulla depressione, ne ho fatto uno sul linguaggio paraverbale, ne farò un altro su il dialogo strategico e anche su altre cose, quindi continuate a seguirmi perché ho ripreso a produrre un po' di video. Come dicevo in un altro video, non sono un influencer, ragazzi, quindi il mio scopo, il mio lavoro, non è assolutamente fare video, faccio video perché mi piace divulgare la terapia breve, quindi aspettatevi anche che ogni tanto ci saranno dei book, dei momenti in cui sono concentrato su alto, sul mio lavoro, su altre cose che mi piace fare, o magari non ho semplicemente niente da dire e quindi non vengo qui a tediarvi con delle inutilità o con delle sciocchezze. Quindi magari premete sulla campanellina che questo vi aiuta a sapere quando è uscito il mio nuovo video, seguitemi su Instagram, dovete essere un po' più costante perché è un po' più semplice pubblicare qualcosa e seguiti ovviamente gli altri canali e altre cose che faccio, l'Istituto ICNOS e l'Italian Center for Single Session Therapy, attorno a cui ruotano tante altre persone insieme a me, Francesca Moccia, Federico Piccirilli, Angelica Giannetti, Pierpaolo Dalia, Valere Campinoti, Beatrice Pavoni e Vanessa Perger che hanno anche loro tante cose interessanti da dire su le terapie brevi insieme ai nostri studenti che spesso hanno molte cose da dire interessanti, danno molte riflessioni interessanti partendo da quello che studiano nella nostra scuola e ovviamente per la loro esperienza personale. Grazie per avermi seguito in questa serie, ci vediamo penso la prossima settimana con uno degli altri video su altri argomenti di terapia breve che ho registrato. Ciao e grazie.